Terremoto ad Haiti, terremoto in Cile, disastri dovunque, sembra di vivere la fine del mondo, è così L'unica fine di cui dovete essere certi è quella del vostro egoismo, che vi porterà a non essere più uomini e che dovrete raggiungere nel pianeta in cui vi siete incarnati Grazie a tutti Grazie a tutti Terremoto ad Haiti, terremoto in Cile, disastri dovunque, sembra di vivere la fine del mondo, è così L'unica fine di cui dovete essere certi è quella del vostro egoismo, che vi porterà a non essere più uomini e che dovrete raggiungere nel pianeta in cui vi siete incarnati Grazie a tutti Grazie a tutti Terremoto ad Haiti, terremoto in Cile Grazie a tutti 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 Grazie a tutti